Ehm, Mr. X e Piero in direzione. Dai, fate qua le prove! Noi tutti c'avemmo un Jesus, qualcuno da bucare quando va a morire. Oh, noi tutti c'avemmo un Cristo, chiuso dentro di un nome che me ne vuoi. Ehm, Pupu con pizza, e prima che poi, e il cuore della pizza, ci gioco come Pupu con mano, e dimmi che me cogio un mano. Ehm, mi sento che sto per piglio fuoco, con tutti i pazienti a me ne vado. Dai, 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 che piglio fuoco, sappiamo. Ehm, si, è elegante. E' un tipo. E' molto... E' molto... Un altro giro! Noi... E se il tornino 대, e scorre la giù, non scorco più il sole da quando geloso, Io sto a leggere a cieli, e il tempo mi scuri addosso, ma il tuo mi scuri addosso, a passo dal suo potuto. Martino, bisogno di te. Abbiamo bisogno di te. Quelli invegliettati, con i maginoni anche un po' guardati, non ci si rende conto che per passi sta buffata, che sta a chi semmai faccio la mangiata. Dice che più semmo è meglio semmo, ma la vava romanesca, la volemo ricarare. Chi sa cosi? Chi sa cosi?